Il mio intervento si chiama, in un modo curioso, il coraggio di vivere nel ventunesimo secolo. La curiosità nasce fondamentalmente da una cosa, cioè che coraggio devi avere per vivere nel ventunesimo secolo, quindi sembrerebbe quasi una cosa banale. Fatemi iniziare proprio con le cose banali, cioè se io fossi in questo momento un meme potrei dire che io sono un cittadino semplice del ventunesimo secolo. La mattina io mi alzo sentendo Alexa che mette la musica, musica classica perché non mi va di alzarmi in maniera piuttosto traumatica, dopodiché le urlo a Alexa basta e lei ovviamente comincia a stare in silenzio. Quella che vedete non è una stock photo, questo è proprio, diciamo così, il mio punto di vista da parte del mio letto, con uno zoom però, è cosa vedo io la mattina appena mi alzo. Dopodiché durante la giornata, se mi capita di stare in casa, se preparo le lezioni, se sto facendo, magari sto leggendo dei libri, oppure sto magari facendo delle telefonate o delle call con dei colleghi per progettare le ricerche, si sente un rumore di sottofondo che è questo robottino che va in giro per casa e che magari provando a non inceppare verso la, come si vede, la vecchia coperta che mi regalò mia nonna quando andai all'università cerca di pulire, diciamo così, un po' casa cercando di assorbire, perché io sono allergico alla polvere e quindi ovviamente cerco di fare, di non farlo io, ma di farglielo fare alle macchine. Dopodiché magari durante la giornata ho voglia di staccare, ho voglia di magari di perdere un po' di tempo, nel senso non mi va sempre di fare cose intelligenti e interessanti ed essere presente sui social, mi va pure, come si dice, di scherzare, di ironizzare e vado su TikTok. Ovviamente il mio TikTok non è precisamente di balletti, è un pochettino più palloso, però sicuramente è un momento di intrattenimento. Dopodiché la sera, finalmente, sono tranquillo, ho fatto tutto quello che dovevo fare, mi sento riposato, magari ho pure mangiato, eccetera, eccetera, mi siedo davanti alla televisione e lancio un servizio di streaming e mi faccio, diciamo così, orientare sui miei gusti. Allora, cos'è che è curioso di tutto questo contesto? In realtà non ho detto niente di particolare. Ho parlato di spolverare, ho parlato di cazzeggiare, ho parlato di, diciamo così, di svegliarmi la mattina con un orologio piuttosto rumoroso. Però la cosa curiosa è che se noi vediamo queste cose in prospettiva, ci accorgiamo che in realtà il ventunesimo secolo, cioè il secolo che stiamo vivendo, è un po' tanto diverso dal ventesimo secolo. Quindi la domanda che noi ci dobbiamo porre è, cos'è cambiato nel ventunesimo secolo? Allora, è cambiato tutto, assolutamente tutto, ma fondamentalmente sono cambiate tre cose in particolare. Cominciamo con la prima. Noi interagiamo sempre più spesso con dispositivi che scelgono e che decidono. Questa è una cosa assolutamente nuova, assolutamente interessante e assolutamente innovativa. Cioè, fino a qualche tempo fa, nel ventesimo secolo, il frigorifero non ti diceva niente, la macchina stava tranquilla per i cavoli suoi, le caffettiere non ti suggerivano cosa dovevi fare, né tantomeno lo facevano la televisione o le programmazioni cinematografiche. In realtà, invece, noi adesso viviamo in un mondo di oggetti tecnologici che selezionano dati, elaborano informazioni e suggeriscono contenuti. Per esempio, Alexa decide cosa farmi ascoltare. Io è vero che le dico Alexa domani mattina svegliami a quest'ora con la musica classica, ma è lei che decide quale brano di Bach mettere o quale suite di Handel farmi ascoltare. Un'altra cosa, per esempio, è che è vero che io vado sui social per cercare le informazioni, per divertirmi, ma in realtà io sono all'interno di un processo che è stato già determinato degli algoritmi, cioè i social decidono non solo con quale contenuto interagire, ma anche con quali persone della mia rete di contatti interagire. E da questo punto di vista i social sono molto banali, cioè più inneschi relazioni con le persone della tua rete di contatti, più il social interpreterà questa informazione come allora tu sei più amico del signor A e non del signor B, e ti farò quindi più vedere contenuti di A invece che di B, anche se B comunque è mio carissimo amico, ma scrive meno sui social. Dopodiché per esempio Netflix, Netflix mi farà vedere cosa, mi darà dei suggerimenti, ma non sono suggerimenti casuali, è la profilazione dei miei comportamenti di appassionato di cinema, di cinefilo e anche appassionato di anime e di serie televisive. Questa caratteristica fa sì che noi viviamo in un contesto molto più complesso del XX secolo, perché le tecnologie del XXI secolo, dato che raccolgono informazioni, elaborano informazioni e decidono al posto nostro, non sono più tecnologie, sono soggetti sociali che posseggono una forma di arbitrio, un arbitrio ovviamente computazionale, è roba informatica, non ancora libero e non ancora consapevole, per adesso. Il secondo tasseo da prendere in considerazione, viviamo in spazi sintetici analogico-digitali. Che vuol dire vivere in uno spazio sintetico analogico-digitale? Poi andiamo a una cosa che ci accomuna tutti quanti, siamo a cena con degli amici, magari non tutti li conosciamo bene, comunque una cosa che facciamo è che noi, come se fossimo delle pistole, le mettiamo tutti sul tavolo i cellulari, soprattutto noi uomini che magari non stiamo portando giacche, non stiamo portando degli indumenti, magari le signore sono appunto più, diciamo così, eleganti e magari nascondono il cellulare all'interno delle borse. Quello che è interessante è che non è solamente un aggeggio che hai sul tavolo, che non sai mai se mettere dal lato del coltello o dal lato della forchetta. La cosa interessante è che in realtà nel momento in cui tu metti questo telefonino sul tavolo, che magari lo usi per fare vedere un video divertente alla persona che ti sta accanto, per fare una foto tutti insieme, tutta roba assolutamente legittima, in realtà noi non siamo solo a cena, ma siamo a cena con gli amici e siamo contemporaneamente sui social, siamo in due posti diversi, siamo ubiqui in quel momento. Un altro caso che magari è stato caratteristico del periodo del lockdown, almeno questo è quello che mi ha caratterizzato il mio periodo di lockdown. Io durante il lockdown facevo lezione, io quindi lavoravo a casa, ma facevo lezione fondamentalmente in streaming, collegato con le piattaforme digitali. Questa è una cosa che accomuna moltissimi di noi. Quando noi siamo a casa, molto spesso, è vero che siamo nel nostro studio variamente declinato, i nostri libri, le nostre robe, ma in realtà siamo anche al lavoro, siamo anche in relazione con altri colleghi, magari siamo anche in maniera delocalizzata scambiandoci informazioni e contenuti con tutta la nostra rete di contatti. Siamo anche in questo caso ubiqui, in uno spazio fisico con delle connotazioni digitali. Facciamo la cosa più banale, non so quanti di voi sono appassionati di videogiochi, io sono ancora un videogiocatore molto, diciamo così, non sono proprio un nerd gamer, però sono ancora un appassionato di videogiochi. È una cosa che mi sconvolge tanto, ogni volta che finisco una partita a qualche videogioca di quelli che mi appassionano tanto, che mi rubano tante ore ai film che non vedono la sera e che quindi faccio sempre più tardi la notte. E in realtà è vero che sono nel salotto della mia casa, ma in quel momento sono anche in un'arena globale dove sto giocando con altre persone, con dei giochi di ruolo, dove io magari in quel momento sto interpretando un supereroe, però mi collaboro con altre persone che come me sono supereroi, ma da altri punti del mondo. Quindi anche in questo caso sto videogiocando, ma mi trovo sia in un salotto di casa mia, che in un'arena globale, in uno spazio sociale globale. Questo vuol dire che lo spazio sociale non è più definito dalle mura delle architetture fisiche, o meglio, viene definito dalle pareti delle stanze virtuali. Stiamo diventando, grazie alle tecnologie digitali, sempre più liberi dal cemento, ma si passa da un vincolo a un altro, ma sempre più vincolati dagli algoritmi. C'è un terzo elemento che rende diverso l'epoca contemporanea. Volenti o nolenti siamo diventati degli cyborg. Ovviamente c'è chi declina questo concetto in maniera metaforica, perché ovviamente quella del cyborg è di un organismo cibernetico, quindi in parte umana, in parte tecnologica, è sicuramente una metafora, figlia della fantascienza. Ma ci sono altre persone che questo tipo di rapporto ce l'hanno molto più fisico. Penso per esempio a malattie cronache, come le persone che soffrono di diabete, che hanno molto spesso, sempre più spesso, dei sensori sul proprio braccio, con cui controllano il diabete tramite telefonini. In un modo o nell'altro stiamo diventando cyborg, o comunque lo siamo già diventati. Questo cosa vuol dire? Allora, il telefonino è diventato la scatola nera della nostra vita. Questa non è una frase mia, è la frase di un film, tra l'altro un film tradotto e portato di tutto il mondo, di Paolo Genovese, del 2016, Perfetti Sconosciuti. La storia del film non so se la conoscete, praticamente sono questi amici che si ritrovano a cena tutti insieme, a un certo punto per gioco decidono ognuno di scambiarsi il cellulare, quindi venendo a sapere delle cose dell'uno dell'altro che sarebbe stato opportuno, che sarebbero rimaste private. Il telefonino si comporta come una vera e propria scatola nera, così come le scatole nere degli aerei vengono a essere aperte, come le scatole di Pandora per capire cosa è successo in caso di incidente. Invece le scatole nere, i nostri telefonini, sono le tracce di quello che facciamo durante il giorno, le nostre telefonate, i nostri messaggi, i nostri tradimenti, le nostre foto, i nostri chat e le nostre relazioni. Questo fa sì che già il telefonino non è una tecnologia, ma è il nostro doppelganger, come dicono i tedeschi, cioè il nostro doppio. Se ciò non bastasse, prendiamo un'altra tecnologia molto diffusa adesso, soprattutto per gli appassionati per gli efficientisti. Io ancora uso orologi vecchi perché non riesco ancora a avere le notifiche legate al polso. Gli smartwatch. Gli smartwatch, per esempio, perché sono diventati delle cose che hanno a che fare più con la dimensione del cyborg e non che delle tecnologie? Perché gli smartwatch sono in realtà delle estensioni di internet wearable, cioè indossate sul nostro corpo, più intime di un telefono ma più distaccate di una rete internet. Questo fa sì che noi non siamo più delle persone isolate come degli individui, ma siamo sempre delle nodi di una rete che può essere contemporaneamente sociale o tecnologica o in alcuni casi solo tecnologica. Un'altra situazione, vi è mai capitato di mandare via WhatsApp un messaggio vocale anche se non lo volevate fare e iniziate tutti con la frase scusami se ti sto mandando un messaggio vocale? E comincia poi tutto bla 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 bla. Già il fatto che noi ci dobbiamo scusare per mandare un messaggio vocale in una piattaforma che nasce anche per fare messaggi vocali fa dire una cosa fondamentalmente, che WhatsApp in realtà lo usiamo ma non abbiamo ben capito come si colloca nelle nostre relazioni sociali. Cioè non ha ancora una sua netiquette. Come dobbiamo usarlo? Ti mando il messaggino? Ti mando il messaggino e poi seguo il messaggio vocale? Ti mando un messaggio vocale e tu in modo tale che dici ok mandami sto diavolo il messaggio vocale e poi ti faccio una polemica di 20 minuti che poteva essere risolta con una telefonata grazie all'interattività delle telefonie. Cioè questo fa capire come in realtà i messaggi WhatsApp sono contemporaneamente una nuova forma di interazione sociale e quindi noi siamo diventati cyber grazie anche all'opportunità che le tecnologie mettono a disposizione. WhatsApp ha messo la famosa doppia spunta nel 2018, adesso non ricordo la data, quello che so è che ha messo la possibilità di risattivare la notifica della doppia spunta 24 ore dopo perché aveva creato la famosa questione, hai ricevuto il messaggio visto che l'hai visualizzato, due punti, perché non mi ha risposto? Risposta, ci sarà un motivo. Fra avere un incidente stradale e rispondere alla tua maledetta doppia spunta preferisco aspettare un attimo ed evitare un incidente stradale. 24 ore dopo WhatsApp ha messo la possibilità di risattivare la doppia spunta. Infatti se voi cercate su Google come fare per messaggi, Google finisce di completare, disattivare la doppia spunta di WhatsApp perché è una delle informazioni più ricercate su Google degli ultimi anni. Siamo diventati non solo cyborg ma siamo diventati post-umani, nel senso che siamo sempre persone ma abbiamo bisogno di un nuovo umanesimo, cioè dobbiamo reinscriverci all'interno di un nuovo umanesimo. Siamo esseri umani potenziati da tecnologie, che questa è una cosa positiva, ma che ancora non controlliamo completamente. Credo che ci sia proprio un girone dell'inferno per i gruppi WhatsApp delle mamme e dei propri figli perché è impossibile pensare che questa cosa ci consideri ancora degli esseri umani. Io sono nei gruppi WhatsApp di mia figlia che va alle scuole medie e molto spesso mi viene la voglia di reagire in maniera poco urbana, ma questo lo resisto. Allora per dare senso a tutto questo ragionamento ci serve una constatazione e una domanda. Cominciamo con la constatazione. Volenti o nolenti stiamo assistendo agli ultimi anni del XX secolo. Cioè il XX secolo sta finendo e il XXI secolo sta prendendo forma. Noi ci troviamo in un crepuscolo, in una nuova epoca in cui dobbiamo però decidere da che parte stare. Cioè se continuare a vivere il XXI secolo con i limiti del XX secolo o prendere di petto le opportunità che la tecnologia ci ha messo a disposizione ed evitare di cercare gattini quando abbiamo un telefonino in tasca, ma magari trovare cose un pochettino più interessanti. Nulla vieta a continuare a scherzare, a divertirci su TikTok, ma magari c'è vita oltre TikTok. Il XX secolo ormai sta finendo, però sta finendo in un modo disordinato perché ci fa vedere il XXI secolo ma è ancora il XX secolo. Facciamo un esempio. Pandemia i globali. Non si sentiva parlare, il termine pandemia non esisteva più da anni. L'ultima volta che c'è stato il termine pandemia era legata fondamentalmente alla influenza spagnola della prima guerra mondiale, 1915-1918. Invece è tornato un nuovo oggetto, sono tornati i virus che è legato fondamentalmente al modo con cui stiamo maltrattando il nostro ambiente. Pandemie globali è un termine che fa capire come sta finendo il XX secolo e il XXI secolo sta assumendo una strana forma. Guerre euro-asiatiche, si sta spostando l'asse del mondo come abbiamo già avuto modo di sentire. E in queste guerre euro-asiatiche si gioca sempre su un doppio piano tecnologico e militare. Quello che vedete è una foto Reuter in cui si vede un soldato dell'esercito ucraino che sta utilizzando un fucile anti-drone. Cioè un fucile, fatemelo dire, anti-robot, anti-terminator per chi è appassionato di fantascienza. Un'altra caratteristica, stanno cominciando a emergere dei nuovi modi per vivere la rete, non più attraverso schermi ma immergendosi in essa, i metaversi. I metaversi sono delle opportunità, sì lo sono, ma possono anche essere dei rischi e dei pericoli. Come società civile dobbiamo sempre tenere le antenne ben rizzate ogni volta che si parla di diritti, privacy e tecnologie digitali. E i metaversi questi lo sottolineano con molta forza. Un'altra caratteristica, i soggetti stanno diventando identità mutanti. Non siamo più, si parla tanto di non essere non binari e non è un vezzo culturale. Ma perché la tecnologia ma anche la sensibilità sociale contemporanea del ventunesimo secolo fa capire che noi viviamo in un continuum di modi di essere esseri umani. Quelli che vedete sono i fratelli Wachowski, per chi non li conoscesse Wachowski sono i fratelli che hanno fatto Matrix, più altri tanti film visionari, Viper Vendetta, Cloud Atlas e così via dicendo. Lili Wachowski è stata la prima dei due fratelli a fare un percorso di transgender. Se adesso vi facessi vedere la foto di entrambi, entrambi sono diventati delle donne. Infatti molti ritengono che la vera informazione che è nascosta dentro la trilogia di Matrix non è una guerra contro le macchine, ma è un cercare la propria identità mutante all'interno di un mondo che ha sempre meno vincoli. E poi non dimentichiamoci che sta cambiando il potere dei popoli. Noi siamo stati sempre abituati a vivere il ventesimo secolo come un secolo in cui c'era il potere da un lato e c'erano i popoli che subivano questo potere dall'altro. Poteva essere la dittatura, potesse essere la democrazia, ma il potere viene sempre subito. Nella contemporaneità le cose stanno diventando molto più complicate. Anche paesi molto bravi a gestire il potere come la Cina, in queste ultime settimane stanno avendo dei grossissimi problemi per confrontarsi nei confronti della popolazione che sta chiedendo di togliere finalmente il maledetto lockdown. Quello che vedete è una foto che rappresenta le manifestazioni della settimana scorsa che ce lo sono state vicino Wuhan. Quindi fondamentalmente questa è la constatazione. Il ventesimo secolo è finito e sta finendo in un mondo strano. Quello che ci dobbiamo chiedere da questo punto è abbiamo davvero il coraggio di vivere il ventunesimo secolo? Non è più una questione di avere la tecnologia o non averla. Vivere in un mondo pandemico o non viverlo. Vivere in un ambiente sempre mutante, mutageno oppure non viverci. La questione è, abbiamo il coraggio di dimenticare il tipo di umanità che siamo stati e abbracciare il tipo dell'umanità che dobbiamo diventare? Non è certo che diventiamo dei cyborg, ma sicuramente cominciare ad avere un po' più di rispetto nei confronti delle soggettività altre è un nostro preciso dovere morale. E vi ringrazio della vostra attenzione. Grazie mille. Grazie mille.